Entro la fine del 2023 Oristano si doterà di un piano urbano della mobilità sostenibile e di un piano urbano del traffico. L'obiettivo è ridurre l'utilizzo delle automobili e incentivare l'uso di biciclette e trasporti pubblici, rivoluzionando la viabilità attraverso un percorso condiviso con i cittadini e con gli imprenditori. A me piace pensare che il PUM e il PUT sia un po' lo spartito della città, dove mette insieme varie realtà sociali, economiche, che riesca a dare quell'impulso di sicurezza di maggior economia nella stessa città. I cittadini e le imprese saranno coinvolti attraverso questionari e incontri. Il piano, che sarà redatto alla società di consulenze Leganet dopo una serie di analisi svolte in città, dovrà essere approvato in giunta, in commissione e infine in consiglio comunale prima dell'approvazione definitiva, i cittadini potranno presentare le loro osservazioni. Ci sarà una maggior condivisione con i cittadini. Noi dovremmo riuscire a stimolare la popolazione ad usare più mezzi pubblici, perché no, anche se è possibile la bicicletta. Dovrà il PUC portare più sicurezza alla stessa città. Speriamo che questo, evidentemente attraverso il coinvolgimento di tutta la popolazione, possa portare i risultati auspicati.